Dopo un attaccante intervistiamo un portiere, Mandelli Daniele, giocatore esperto che adesso ci racconta quella che è la sua esperienza sportiva fino adesso e poi gli facciamo una domanda su quello che sarà il futuro a Salone. Niente, ho giocato in Serie C, un'ottantina di partite, poi ho fatto tanta Serie D, eccellenza e sono venuto qui per un progetto nuovo spero di contribuire ai miei compagni e alla società e speriamo che vada tutto bene. Il DS è puntato su un portiere d'esperienza perché secondo lui è un caposaldo insieme alla corna vertebrale della squadra per fare un buon campionato mischiando poi dei giovani sulle parti esterne. Sì, sì, ripeto, speriamo che vada tutto bene, di imparare e niente. Sperando che tu possa portare un bagaglio d'esperienza importante anche per i giovani, vista che non sei più giovanissimo, in bocca al lupo e benvenuto. Grazie Crepi.